Ciao a tutti, sono Chiara, ho fatto parte del primo servizio civile che si è tenuto qui a Dolevano sul Tusciano, presso la Casa Comunale. Il mio progetto si chiamava Oltre il Rischio e ci impegnava nel settore dell'assistenza al supporto dei giovani a rischio. Mi è stato chiesto di spiegare che cosa è stato per me il servizio civile. Ebbè, innanzitutto il servizio civile mi ha reso parte integrante di un gruppo che aveva un unico ed identico obiettivo, quello di lavorare nell'interesse del Paese. Ma soprattutto quel gruppo di lavoro si è trasformato in un gruppo di amici con cui ho condiviso la quotidianità del servizio civile con gli alti e i bassi che la caratterizzano, ma soprattutto con cui ancora oggi condivido altre esperienze a distanza di diversi anni dalla fine del mio servizio civile. Ai giovani quindi di Olevano e non interessati al servizio civile dico di non aspettare, ma di mettere in campo la propria personalità, le proprie capacità, le proprie passioni a favore del nostro Paese per renderlo migliore. In cambio di un badaio di emozioni uniche, esperienze professionali e non, nuove amicizie e perché no anche di una prima forma di indipendenza economica. Quindi non aspettate, Olevano ha bisogno di voi.